Tudor Black Bay Dark, l'orologio che esprime l'eleganza. L'orologio da polso Black Bay Dark è un'icona di stile e mistero, un'opera d'arte che esprime la perfetta armonia tra design sofisticato e innovazione tecnica. Il Black Bay Dark appartiene alla collezione Black Bay di Tudor, un marchio di orologi di lusso fondato nel 1926 da Hans Wilsdorf, lo stesso creatore di Rolex. La collezione Black Bay si ispira ai modelli storici di Tudor, in particolare ai suoi orologi subacquei, e li rivisita in chiave moderna e originale. Il Black Bay Dark è una versione di questa collezione dal design Total Black. Il Black Bay Dark si distingue per il suo design audace e inconfondibile. Il quadrante nero opaco, associato agli indici luminescenti e alle lancette Snowflake, conferisce all'orologio un aspetto misterioso e affascinante. La cassa in acciaio inossidabile rivestita di PVD nero e la lunetta girevole unidirezionale completano l'estetica sofisticata e virile di questo modello. Il PVD, acronimo di Physical Vapor Deposition, è un processo che consente di applicare uno strato di materiale nero sulla superficie dell'acciaio, rendendolo più resistente ai graffi e alle abrasioni. Per una maggiore visibilità questo segnatempo è stato realizzato con gli indici, la minuteria chiusa, e la scala dei 60 minuti sulla lunetta con un tema bianco. Oltre all'estetica affascinante, il Black Bay Dark è un esempio di eccellenza orologera anche dal punto di vista tecnico. La corona a vite e il fondello solido assicurano una resistenza all'acqua fino a 200 metri, caratteristica indicata sul quadrante con il colore rosso, colore che risalta particolarmente in mezzo al Total Black di questo orologio. La sua impermeabilità rende il Black Bay Dark ideale per chi ama le sfide subacquee. Il movimento automatico al suo interno garantisce una precisione senza pari, mentre la sua duratura meccanica si sposa perfettamente con l'eleganza del design. Il Black Bay Dark è dotato del calibro MT5602, un movimento di manifattura Tudor che offre una riserva di carica di 70 ore e una frequenza di 28.800 alternanze ora. Il calibro MT5602 è certificato dal COSC, Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, un'organizzazione indipendente che attesta la qualità e l'affidabilità dei movimenti orologeri. Il Black Bay Dark è molto più di un semplice orologio da polso, è un'espressione di stile e raffinatezza che cattura l'immaginazione. Indossare questo orologio significa immergersi nell'atmosfera magnetica dell'oscurità e dell'eleganza, portando con sé un pezzo di storia dell'orologeria moderna. Il suo design distintivo e le sue prestazioni impeccabili sono un omaggio all'arte dell'orologeria. Il Black Bay Dark è anche un orologio che racconta una storia, quella di Tudor, un marchio di orologi di lusso che ha saputo innovare e rinnovarsi nel tempo, mantenendo sempre la sua identità e la sua qualità.